Sono lo zio cara più forte che mi hai sentito, ora tu possa sergio e marco rabbi rompere un dito REDDITATA Facciamoci una bella redditata oggi signori eh Una bella redditata Una di quelle bollenti AVERAGE SI FA FAN Che cos'è questa cosa AVERAGE E MENJOY AVERAGE LOWLIGHT I MEME SUL MIXTAPE ZANURAGAT PORCO DIO SI MA CHI E' IL GOBLINO DEI IERI SUL FIFA 17 E' UFFICIALI I MEI CONTROTI FARANNO UN PORN UN PORN Alexa definisci un gruppo di fallite Mi dispiace non lo so Eh non hai mai conosciuto porco dio Gli stalloni 117 dislike a perma ban Eh c'avete la mamma troia c'avete Il maestro colpisce ancora Di Daniele sta entrando o no che se no mi faccio una duo Sì sì sta arrivando Ok Adesso si tratta con mia madre Sì Ok Mi va bene la comunità Dai dai Dino o oi Come legge Mi dame un tanto Ciao Ciao tutto bene Tutto appostissimo appostissimo Tutto molto bene E' un male E' un male Ma quando è successa Ma quando è successa questa cosa No è impazzista Bari 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 Si sente Senti Bari Va bene Ti ripasso qua la compagnia bella Grazie mille Buona giornata Ciao bello Buona serata Ciao Oh official deluxe che fa un meme simpatico Oh E allora lo vedi Basta usufruire un po' di intelligenza Si opera Un anno fixed edition Però aspetta A un certo punto dirà Grazie mille per l'anno Tia Dio cane Che malati mentali Il maestro ci delizia con le sue liriche anche senza autotune Non l'avevo mai vista la clip io Ok Madonna ma la clip era di un fortnite di tantissimo tempo fa Lui era forzato ad ascoltare Xyuder season 7 Tutti lì Xyuderone Fantastica Grande Xyuderone Sempre il più forte Xyuderone Zio Pera Quando fai ridere già a Marco Tocco Ma per motivi sbagliati Ok ok perfetto Fammi vedere Non capisco Non capisco non è Ezzano è montato su Ah era il tizio Nooo C'è il tizio che è volato in stream Che sei auto Clip E nel reddit Si vabbè fratello Io posso dire che sei un botte clamoroso Porco Dio Colpo di scena da Taipei fuori dal mondiale di Tokyo Cosa succederà ora Regà Prima partita della Cina Taipei 5 per Dall'Australia Zanomessi Ma grazie al cazzo Dai ma c'avranno un campo Come ho detto ieri In Cina c'hanno i campi Ma manco so de carcio Zio Mega Pera Scusate ma domani che fa Te imbruttisco Vengo là porco Dio Ti massacro di botte Francesco Marzano Il miglior videomaker d'Italia Porco Dio Madonna Troia Gesù Zanzariera Sua mamma ne- Surri falle alcolizzato Basta 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 Ti prego Basta Non è possibile C'è un Surri per ogni stagione Oh ci sta benissimo Holy shit Io e il mio bro Gli occhiali del fazone Costano 10 euro all'iper Un acquisto Dai ma solo io Non li trovo Gianmarco Tocco E Sofia Piorini Hanno studiato a Hogwarts Oh oh Sta per dire la sua prima parola Oh ma che fai Zanotac Si No Sempre lui Uomo c'ha di il muschio Il grasso Uomo c'ha di il grasso E' sempre brutto da vedere Ragazzo viene bannato Gunter First time Scusa uomo chitarra Non è che potrebbe ricominciare a dire easy Alla fine delle cazze Mia madre è un po' bislunga oggi Portogallo CC Mia madre Mi c'è un po' bislunga oggi Un po' bislunga oggi Un po' bislunga oggi Zanotac Carme meme del tizio di parfiction Everywhere No basta basta Oramai sono immune Lo posso guardare per più di due secondi Che cazzo hai detto Che cazzo hai detto Come scusi Le chiedo venia Può ripetere Emote del fazzone No ragazzi Riga non è così Emote del fazzone E' una roba che ti lascia perplesso Quando ti lascia perplesso qualcosa E' emote del fazzone Non ha senso così Perché c'ha 400 upvote Questa cosa Ascoltatori dei sigomod Travis Ascoltatori dei sigomod Che è la legge Fata Giammo durante le corse Ho una lettera per te Shitpostino pazzo Ehi Ma sono rinco Ma sì Ma io c'ho scritto Riga io c'ho scritto Per terra tre E ho tirato quattro Aspetta Giamma Prese il sushi Pure stasera Brotero Pure io Sì Morirai in cinque Allora Domani Paco venite Ancora Ancora vivo il sushi Mi dispiace Mi rimane solo più Un anno di vita Uno adduttore L'analisi del sacco Nessuno La stalla mercoledì scorso Sul ripazzo Assassizio Ma ha scritto Al contrario Sofia Fiorini Ciccio che racconta Le sue avventure Su Ford Ci sta a putte Alla fine torneremo Il martello della legge Non ci fermerà Tornerò Tornerai Alla fine torneremo Per vedere uno Spati Tu Flavigia Quel sorriso Quel maledetto sorriso Quel maledetto Guardalo Guarda che fregno Ti aspetto Chiamai ad Iuventus Ma svegliate freddo Porco Dio che clown Signore ufficioso Ci deve dire qualcosa Continuiamo Anzi Questa la voglio mettere su Questa la metto su Instagram Come sono i fisi Ci ho trovato solo barre Sarà il nuovo Eminem Tre mesi Direttamente da Muschio Selvaggio Ah ver Che film Io tu veramente Giochi NBA Giuro sono fortissimo Gioco anche su Twitch Sono forte Twitch tipo Non c'ho mai Ogni tanto Non c'ho avvicinato A quel mondo Però guardo tipo Quelli là che mi fanno Ci sono tipo degli Gamer che mi fanno Schiattare da ridere Che tipo C'è uno pugliese Che mi impiego in due Ogni volta che lo vedo Chi è? Eh non so chi sia C'è una barba enorme Dite Dite Secondo me no Dite che è il maestro Secondo me no Zì è strano Mi fa strano Quando vieni bannato In 0-2 di condi È la legge Quando tu sei felice E ti diverti Ad ascoltare la musica Che ascolti Quando sei triste Capisci invece L'hyricks E ti diverti E ti diverti E ti diverti E ti diverti